In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Dio Onnipotente ed Eterno che ci affidi le risorse e le energie del creato perché ci aiutiamo l'un l'altro in operosa concordia, benedici noi e l'opera delle nostre mani e fa che, riconoscendo in te il sommo bene, instauriamo rapporti di amicizia e di fraternità. Per Cristo nostro Signore, Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su quest'opera e su coloro che vi eserciteranno il lavoro e vi rimanga sempre, Amen. Auguri. Grazie. La mentalità della fondazione è quella di fare le cose bene e gradualmente. Noi oggi abbiamo fondato qualche cosa in più a questa sede universitaria che è costituita da un bar, non mai inteso come bar, sì che è semplice, ma una struttura di comfort e di comodo a disposizione dei ragazzi. E' chiaro che l'università deve essere intesa come un luogo quasi di vita quotidiana, come il ragazzo viene, ha la possibilità di parlare con i professori, ha la possibilità di venire la biblioteca che sarà penso in settimana messa a disposizione, ha la possibilità di avere contatti con i professori per i quali sono state fatte nelle stanze in maniera che anche loro potranno stare qui. Abbiamo provocato le iscrizioni fino al 31 dicembre. Io faccio l'invito ai genitori, ai ragazzi, di venire a vedere questa struttura.